Allora adesso ti domando Ciao Ciao Allora come ti chiami? Alexander E voi siete in? Upstream Faith Brava, finora andiamo benissimo Ah sì Ok, da quanto tempo è che vi siete assieme? Siamo ormai un anno e qualcosa Come vi siete conosciuti? Come si è formata questa band? Che situazioni? Scuola e amici degli amici Scuola e amici degli amici Scuola e amici degli amici Ha non consolidato Il batterista suggerisce Sì sì Allora e... Avete una sala prove? Avete una cantina? Cosa fate? Suoniamo di solito a piano musica e... Ci sento una volta a settimana Allora batterista un po' più di... Sappi di comportare perché sennò qua non sentiamo niente Ok È caldo, è caldo No, adesso guarda ce ne andiamo È come una pentola di pop code Non ci scuola più e tante È caldissimo E... Diciamo una... Qual è proprio la band che vi fa venire voglia di suonare? Una band che penso piaccia a tutti noi Perché abbiamo i gusti molto diversi Sono forse di Rammstein o... Che pesante Gente pesante E qua... come vai in Pacella? E... E... Vi mando un batterista da ci dentro Ok? Loro sono gli Upstate Faith Primo gruppo di Pagena Non Sono Rock di questa sera Un applauso calorosissimo Allora... 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 I live li vuoi riascoltare su Radio Optica Anche il tuo... Volevo... 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 Chi è che presta la chitarra? Volevo... Perché l'avete emozionato Ma io l'amo... Volevo... Volevo... Va bene... E questa è l'emozione del live... Volevo... Tutta diretta questa... C'è il primo concetto che spaccano la chitarra prima di iniziare Prima di iniziare... Immagini il concetto... Veramente... E allora... E... Quanti si sono formati questi gabbiani? Ci si sono formati... Un annetto e mezzo fa... Volevo... Dove? Orba Sala... Dove? Volevo... Sui banchi di scuola, su Facebook... Banchi di scuola, Facebook... Amici... Amici di amici... Nucleo originale? Nucleo originale... Eravamo... Duque... Io... Due chitarristi... E... Due di quelli che sono tra il pubblico... E... Ex... 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 Banchi di scuola... E... Dove suonate? Avete una sala prove? Suoniamo fondamentalmente a Orba Sun... Una sala prove Sonic... Oppure a Torino... Una sala prove Lunt... Voi direttamente in sala prove... Non avete un posto... Diciamo... Vostro... Proprio... No... Siete professionali... Molto professionali... A che genere vi ispirate? Quali sono le band che... Vi... Vi scaldano? No... Le Zeppi... 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 Allora... Mi sembra che abbiamo finito... Forse avete perso il chitarrista... Sì... Il chitarrista... Tu eppicini... Nu c'è il chittà! Però il перевore il coraggio tutto... Eppicini il chits chemical... Il chitarrista inter gave evo... Vi sẻamww... Grazie a tutti Grazie a tutti